Grazie a tutti. Viene in questa aula e ci racconta tanti dati che dicono di come questa scelta dell'Unione Europea peserà drammaticamente sulla nostra economia. La ringrazio per questa sincerità che però dobbiamo dirci peggiora la posizione del Governo italiano. Lei ci dice, Ministro Guidi, giustamente, che si stima una perdita per il nostro settore dell'agroalimentare di circa 100 milioni di euro, da qui alla fine dell'anno parliamo di 100 milioni di euro in quattro mesi. Gli operatori del settore danno una stima che è doppia, poi ci sono le perdite nel settore della difesa, poi c'è tutto il tema dei rischi indiretti, del danno indiretto che noi corriamo. Perché è stato già ricordato il rischio che i prodotti europei invenduti in qualche maniera finiscano per invadere il mercato europeo è un rischio estremamente alto. Perché noi rischiamo di perdere quote di mercato a favore di nazioni esterne all'Unione Europea. E, francamente, io la ringrazio per averci dato la disponibilità a impedire che questo accada, ma non ci è molto chiaro come l'Italia e l'Unione Europea intendano impedire che, che so, il Brasile e l'Argentina vadano a vendere i propri prodotti in Russia. Non so se avete in mente di affondare le navi mercantili dirette in Russia, ma temo che non si possa fare e quindi è difficile che si possa impedire. Aggiungo che con il perdurare di questa crisi ci saranno molti altri settori coinvolti, il settore del tessile, il settore dell'abbigliamento, tutto il comparto del lusso, il settore del turismo, con perdite che, obiettivamente, non siamo esattamente nella condizione di permetterci. E tutto questo è niente a fronte di quello che accadrebbe se a un certo punto la Russia, come è già stato ampiamente ricordato, decidesse di interromperci le forniture di gas, che, come abbiamo detto, pesano sul nostro fabbisogno di gas per circa il 49%. Anche qui il Governo ci dice che possiamo stare tranquilli. Diciamo che, insomma, lo slogan Italia stai serena non ci tranquillizza molto, perché nello stesso momento in cui lei dice che non corriamo rischi, ci ricorda anche che le bollette per le famiglie italiane sono già aumentate e sono aumentate per colpa delle tensioni, con la Federazione russa e delle sanzioni. Ora, il punto è, però, Presidente, per che cosa noi stiamo rischiando tutto questo? Cioè, stiamo rischiando tutto questo perché effettivamente abbiamo un interesse nazionale a intervenire come siamo intervenuti? Stiamo rischiando tutto questo per sostenere una intelligente strategia di politica estera dell'Unione Europea? A noi pare di no. Certo non stiamo difendendo il nostro interesse nazionale, ma parliamo anche della politica estera dell'Unione Europea, perché, a parer mio, se l'Unione Europea avesse una politica estera, se l'Unione Europea non si limitasse semplicemente a eseguire gli ordini del meritatissimo premio Nobel per la pace Barack Obama, allora l'Unione Europea saprebbe che non ha alcun senso oggi forzare l'ingresso dell'Ucraina nell'Unione Europea e nella Nato, portando inevitabilmente avanti una crisi con la Federazione russa nello stesso identico momento nel quale noi avremmo bisogno della Federazione russa per combattere, di arruolare la Federazione russa per combattere il dilagare il fondamentalismo islamico. Se l'Unione Europea avesse una politica estera magari avrebbe promosso lo status di paese neutrale per l'Ucraina fuori dalla Nato e ponte tra l'Unione Europea e la Federazione russa, ma questo non si è fatto, perché l'Unione Europea non ha una politica estera. Del resto, forse è proprio per questo che le altre nazioni hanno consentito che a occuparsi della politica estera dell'Unione Europea ci fosse un membro di questo governo. Allora tutto questo non ha molto senso, motivo per cui, banalmente, e voglio dire anche, guardi, Presidente, che non mi convince, l'ho sentito dire a qualche collega, che le sanzioni per la Russia sono necessarie per difendere la popolazione ucraina. Sarà che, insomma, in questioni ben più gravi, e concludo, l'Occidente è ampiamente rimasto a guardare. Qualcosa mi fa pensare, per intenderci, che rimarrà a guardare anche quando la reazione cinese verso gli studenti di Hong Kong dovesse diventare violenta, ma questa è altra storia e ne parleremo. Allora, molto semplicemente la nostra posizione è che l'Italia ritiri immediatamente il proprio sostegno alle sanzioni contro la Russia. Abbiamo presentato una mozione, vedremo come voteranno i colleghi quando questa mozione arriverà in Parlamento. l'Italia si faccia piuttosto promotrice di una riposta politica alla crisi con la Federazione russa e sulla crisi ucraina. E speriamo che una volta tante, concludo, davvero si possa difendere i nostri interessi invece di fare i servi sciocchi di interessi altrui.